Reparto dialisi del San Salvatore dell'Aquila, ospitato in un container donato dalla protezione civile. Qui gli infermieri, quasi tutti aquilani che hanno perso la casa, lavorano a ritmi serrati dal 9 aprile 2009, effettuando 7000 prestazioni al mese. Per carenza di personale però, la dialisi, per non chiudere, cosa del resto impossibile, avrebbe bisogno di rinforzo, ovvero di cinque infermieri e l'infermiera in servizio dovrebbero rinunciare alle ferie. Intanto il reparto deve rifiutare i pazienti da altre province e regioni. Stesso problema per il Dipartimento di Medicina, della Lungodeggenza e Chirurgia. Delle case famiglia, in una di esse ad esempio, 30 pazienti sono gestiti da appena due operatrici oramai allo stremo. Ha chiuso invece due giorni fa l'unità di terapia intensiva neonatale, che era un fiore all'occhiello del San Salvatore. Ed è per questo che la Cisle è sul piede di guerra. Servono assunzioni, spiega il sindacalista Gianfranco Giorgi, ma dal manager Lasra Silveri abbiamo ottenuto solo garanzie verbali. Di fatto l'unica misura tampone, denuncia Giorgi, è quella di negare le ferie al personale in servizio. C'è un braccio di ferro tra noi e l'amministrazione perché loro sostengono che il personale è sufficiente, però noi registriamo i fatti e i fatti sono che la gente e il personale chiedono le ferie e gli vengono respinte. Il TIN, terapia intensiva neonatale, è già chiuso perché non riusciva a fare i turni e quindi fare un'assistenza adeguata ai bambini. Le liste di attesa sono rimaste come prima, quindi lunghissimi periodi che il dipendente o diciamo l'utente Aquilano e non deve attendere e quindi ci vorranno mesi, anni per farsi una risonanza magnetica, una lastra e quant'altro. Cosa intende fare dunque il sindacato? Sicuramente se le cose continuano in questo modo noi scenderemo in piazza, ma è una cosa inevitabile, non è che siamo guerra fondai ma il personale è stufo di essere trattato in questo modo. Quindi auspichiamo che l'amministrazione corra ai ripari per fare un'assistenza adeguata al cittadino, se lo meritano. Dopo un anno triste come questo io penso che almeno facciamo andare la gente in veria.